Usura aggravata, estorsione e abusiva attività finanziaria. Queste le accuse a carico di sei persone, destinatari a di misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza di Bari, di cui tre arresti domiciliari e tre obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L'operazione costituisce l'epilogo di articolati approfondimenti investigativi che hanno portato alla luce l'esistenza di una rete di prestiti usurari concessi in favore di più soggetti, anche esercenti e attività imprenditoriali nel territorio tra Altamura e Gravina in Puglia. In particolare, le indagini sono partite dalle dichiarazioni rese proprio da un imprenditore in gravi difficoltà economiche che aveva denunciato di essere stato vittima di usura nonché di gravi e reiterate minacce da parte di un soggetto residente a Gravina in Puglia, conosciuto per il tramite di alcuni mediatori. I conseguenti riscontri, mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, perquisizioni, impedinamenti e ascolto di persone informate dei fatti, hanno consentito l'acquisizione di un corposo quadro indiziario utile alla ricostruzione delle condotte illecite e dei differenti profili di responsabilità. In particolare, gli accertamenti avrebbero consentito di dimostrare l'ottenimento nel 2017 e nel 2019 da parte dell'imprenditore Altamurano di due prestiti di denaro per un valore complessivo pari a 120.000 euro, con l'applicazione di tassi di interesse annui oscillanti tra il 120% e oltre il 2.000% annui. In tale contesto, l'usuraio avrebbe costretto la vittima a pagare gli interessi anche ricorrendo a violenze e minacce a danno della sua persona, nonché dei propri stetti familiari. E si sarebbe avvalso di altri soggetti, ognuno con uno specifico ruolo, al fine di riscuotere materialmente le somme oggetto dell'illecito finanziamento.